Questa dovrebbe essere la nuova nera italiana, ormai in Italia è tutto un divieto. E il divieto in più delle volte è violenza, ma noi alla violenza non rispondiamo con la violenza, perché così come il fuoco non si spegne col fuoco, e l'acqua si asciuga con l'acqua, così noi non eliminiamo la violenza con la violenza. Alla grande!